E' presente in mezzo a noi il donatore, ma anche lui che ha avuto l'intuizione di dipingere questa bella immagine di San Francesco. Inviterei il professor Giustiniani a venire un attimo a Lampone per darci una piccola spiegazione di questa opera che preziosisce la nostra Chiesa, ma allo stesso tempo permetterà a noi fedeli di venerare maggiormente il nostro Padre San Francesco di Paolo. Vi ringrazio a tutti. È l'Effigia, il nostro Santo, e l'ho voluto vedere in un momento d'adorazione alla Croce Grande, dove una luce intensa illumina il Santo che tiene in mano a sua volta un altro croce fisso e avviene un grande miracolo dove il Cristo lascia i propri godi e scende dalla croce. Questa è la mia visione del Santo. Grazie. Grazie. Grazie.